I never wanted to dance with nobody but you I never wanted to dance with nobody but you Wanna take no foreign answer you fucking bitch Hey la ragazzi, salve a tutti e benvenuti con questa nuova parte di Let's Play Pokémon Rumble U Nella scorsa parte abbiamo battuto Cobalion E abbiamo finito il negozio po'... no scherzo stavo vendendo Abbiamo finito la collezione di giocattoli E ci ha sbloccato queste due vie, una per il magazzino segreto e una per la porta proibita Ovviamente dato che la porta proibita probabilmente sarà l'ultimo livello io andrò nel magazzino segreto Dove il boss è alquanto in... ok no stavo scherzando E... è in boar, va bene Lotta sul ghiaccio con Lucario, sconfiggio il boss in tempo, usa un Pokémon con almeno 1900 punti forza E gioca di martedì, così, a caso no? Giochiamo di martedì No, che sfiga, oggi lunedì Bitch please Perché questo c'è le cose d'oro? Perché c'è la luce, vero? Sì, sì, immagino Almeno 1900, non ce l'ho Sorry Ti ho messo anche di merda, fai schifo Ma mi serve uno contro... Contro quel tossico di Lucario Quindi... Vai, Gigalif Pietrataglio e Geoforza Abbiamo un... Un... tro... Un casino di Pokémon E siamo sul ghiaccio Oh 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 Sapete cosa vuol dire questo? Lo sapete, vero? Ta-na-na-na-na-na Ta-ta-ta-ta Ta-na-na-na-na Ta-ta-ta-ta-ta Che è questo? Hitmon Top Ma non ti vergogno Andando... Andando a girare con dei Pokémon così Ta-na-na-na Ogni tanto attacca anche, sì, perché no? Ta-ta-ta-ta Ta-na-na-na-na-na Ta-ta-ta-a Ta-ta-ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Combo 50 Se riuscite a fare il combo 50 girando a vuoto come un imbecille Lo fate davvero? Guardalo là Olè, mancato Eh, cosa vi aspettavate che lo prendessi? Ma va là Allora, vediamo di girare un bel po' adesso Ah, ci sono anche questi da distruggere Non ho ancora capito cosa servono Ariyama Ah, lotta sul ghiaccio nel vero senso, proprio Ah, fate i titoli come i miei, eh Complimenti Intanto io mi prendo questo così divento giga, giga, giga Giga, giga, live divento Oh, yes Proprio... Non mi... Tunze, tunze Giga, giga, live Che figata Cos'era? Blaziken Grandissimo Devo distruggere questo L'ho distrutto Almeno non è apparso un Sunk Fuck Allora forse in quell'altro c'era Hawk No, come si chiama? Arrivo... Arrivo da te Ma c'è anche la palla ferrata Quindi probabilmente dovrò schivarla Recupera PS Grandissimo Un genio era quello In pieno l'ha preso Pokémon Aura Lucario Guarda come l'ho massacro Guarda come l'ho massacro Porco C'è l'ho massacrato Non come quella volta con Sheptile Però l'ho massacrato Ed è morto anche un Bolo Un... Che schifo Vergognati Non sei degno di entrare nella famiglia Completa in 100 secondi Fatto 900 Non ce l'avevo Pokémon tipo volante Oh no Forse era non usare tipo volante E l'ultima non me la ricordo neanche più E ho vinto Schifosi Ladri Poserei anche dire Tirogue Rotom preso Ma quando l'ho preso True Ah no non era Hulk Era True Quando l'ho preso Rotom Quello lì Che cos'è poi? Com'è che si chiama? Non mi ricordo Gioco di Marte di Niver Una cosa schifosa Minaccia interna Con Samuroth Non ho letto neanche gli obiettivi Allora Samuroth Me lo mettete lì così È ovvio Con Samuroth Cacchio Che tipo è Samuroth? Poi acqua Acqua Roccia Difendi i fortini Allora non serve Guarda i Lanthorn Che figli No Ah no che non hanno una Sorbivolt Non c'entra vieno? Carvagna E don't Non rompere Semplicemente Qui son con me? Sì Levatevi allora Questa cos'è? Una capsula normale Allora Forse non ci capisco Cos'è quel coso? Pelipper Schifoso Togliti dal mio fortino Levati Via 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 Ma andate Potete andare ad attaccare i siluri? No è vero? Distruggetelo 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 Troppo tardi È perso un Rotom lavaggio È perso un Rotom lavaggio Oddio Attenzione Con Gastrodon Tanti Gastrodon Che mo' sapevo io Scarica e qua l'altro schifoso Esci No Che mo' sapevo Sottocarica Ok Una merda Sì come ho detto No fuck Ho finito Devo recuperare Allora Se mi distruggete un fortino Tutti me l'hanno distrutti qua Ovviamente No Perché ci sono i Pokémon Che fan schifo No? I miei compagni Fan schifo E non difendono niente Samuro Pokémon dignità Non hai un minimo di dignità Perché fai schifo Ok Mi sei inutile in questo momento Guardalo Guarda che mi va a distruggere subito i fortini Questo schifoso Maledetto 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 Devi morire pesantemente Ah no è acqua e basta pure Se non gli ho dato il colpo di grazia finale Colpo di grazia finale Ovviamente Difendi tutti i fortini L'ho preso 1900 non ce l'avevo Combo 50 Gioca di mercoledì Questa volta Olè Così Ma Uno che Uno gioca di lunedì Che proprio oggi Oggi potevo Potevo farlo oggi Che è lunedì Gli ha dato Zubat Maledetto B La prossima volta non giochi Non entri in gara Vuoi vedere Ho preso Lanthorn E Carvagna Wingull Cello Zendiyut Va bene Così a caso proprio Olè Olè In fila indiana Te a me non mi comandi Intanto ok 1900 Non ce li ho Sti pokemon Con 1900 Subisci danni sul terreno infuocato Per 20 secondi Ok proprio Masochismo estremo Va bene Ci sta Allora Non ce li ho Da 1900 Guarda quanti pokemon Ragazzi Voglio Voglio No scusa Dov'è Sto scherzando Ehi Dov'è il mio Perché c'è Spiloswine Come primo Io avevo un coso Avevo Come si chiama Avevo Porca Non mi ricordo Come si chiama La prima La prima Di Serva Che si chiama Che non mi ricordo più Lo starter Dai Porca miseria Facciamo lo starter Al 100 No Era a livello bassissimo Maledetti Me l'hanno tolto Vabbè Embor Embor può essere Un problemino A meno che Non uso Gigalith Ovviamente Oh Porca vacca Embor Samuroth E l'ultimo No Non mi ricordo Come si chiama Mannaggia Non è Si vai Per Porca vacca Ma venite qua Intanto Così Dove sono i pokemon Guarda come si avvicinano Che figli sono Questi possono Distruggerli Si che posso distruggere Ovviamente Posso distruggere tutto Chiedo anche Olè Alcuni sono andati Danno fuoco Dov'è poi Che Ma chi c'è qui Poi per far tutto Sto casino Ah sono io Che faccio il casino Ok Niente Lasciate stare Allora Anche di qua ci sono C'è gente Anche di qua Scrafty Ah Che Scrafty fa Buio lotta Che fortissimo Scrafty Venite qua Adunata Bitch Voglio il fuoco Ah eccolo Danto attacco Sturggetelo prima che esca qualcuno Devo fare 20 secondi Almeno Non so quanti ne sto facendo Mi fa ridere il fatto che Gli altri due Gli altri due Boldor Stanno Stanno prendendo danno con me Ragazzi Mi fate schifo Guardali Sono ancora lì dietro Che prendo un danno Ma non vi vergognate Olè 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 Chi è questo Volcarona Ah la falinona Vero Odio 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 Sti campi Di sabbia Maledizione Mi trascinano sempre via Dai 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 Quanta gente c'è No 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 Io là non ci torno Vai 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 comunque Sì coraggioso Sì coraggioso Credi in te stesso Alè Ci sono C'è un wine out anche C'è un sacco di gente Alè E' un boar Lo secco subito E' mio C'erli ho tutti Pokémon su incendio Focolotta Guarda come lo incendio Dove sono Ah sono qua Guarda come lo incendio No sono No 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 La sabbia no Devo uccidere prima L'ho ucciso Ed è mio Schifosi Porca vacca Quanti Pokémon c'erano Un bordello Il campo era tosto anche Complimenti 4 più cannoni Rallentatori Ok E si vabbè Ciao Soldi qua Col cacchi Li prendo tutti Dato che anche loro Mi aiutano molto Come vedete Come potete ben notare Loro raccolgono Un sacco di soldi Cioè loro C'hanno gli alberi Di soldi Che li crescono in casa E loro Non hanno bisogno Di soldi Nessun colpo subito Per forza Era lì che prendeva Le botte L'ho presi Quasi da 20 secondi Pigknight Larvesta Si chiama Vulcarone Larvesta Ah beh E' vero Abbiamo finito il coso E' vero Wow Ok Andiamo a dare una sbirciata Allora Porta per vita Vai Tanto tempo c'è Mi sa Ce la state mettendo Davvero tutte Per guadagnarvi Un posto nel negozio Ma ora dovrete Vedervela con me In guardia Anche che sei un bullo Stai calmo Oh Keldeo L'ultima lotta Vengo ad aiutarvi No Ditemi che ci sono tutti No c'è solo Keldeo Infatti C'è solo lui Wow Wow Ok ragazzi Posso vedere un'anteprima Di chi c'è Ma Questo lo vedremo solo Nella prossima parte Di Let's play Pokémon Rumble U Qui dall'Anulf è tutto Ciao a tutti Vietami Pichu Vietami Pichu Tutto a posto Bambini Sì Picchiate 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 questo